Os 2023 continua, ci troviamo allo stand della Federazione Italiana Cuochi e siamo in compagnia di Marco Gandolfi, il responsabile Italia di Barilla for Professionals. Caro Marco, finalmente ci rivediamo dopo lungo tempo. Eh sì, sì Fabio, finalmente davvero, finalmente sono ripreso questa stagione positiva dell'Orica, possiamo dire un anno pieno ad altissimo livello e quindi non potevamo mancare certo questa fiera. Una collaborazione quella con la Federazione Italiana Cuochi che oggi vi vede tra i protagonisti del mercato. Esatto, noi abbiamo deciso di essere protagonisti di questa fiera nella collaborazione con la FIC, Federazione Italiana Cuochi, con cui abbiamo una partnership più che decennale e presentiamo in questa sede il rilancio del nostro prodotto di punta, la nuova Barilla Selezione Orochef di Barilla for Professionals, una pasta studiata per la ristorazione e che ha il grande vantaggio di resistere nella doppia cottura e non ci poteva essere alto palcoscenico che è questo bellissimo stand della FIC per presentare questa innovazione. Marco, voi però in qualità di Barilla for Professionals non avete solo la linea dedicata alle paste. Ci sono più linee, quella bakery, quella sughi e salse e cos'altro? Esatto, noi abbiamo innanzitutto il catalogo più ampio del mercato dei prodotti dedicati alla ristorazione con la nostra linea 5 kg, con il nostro prodotto di punto a Barilla Selezione Orochef, una linea di integrale, una linea di pasta all'uovo dedicata alla ristorazione Emiliane Chef e poi andiamo su tutto quello che invece è l'ambito bakery, dove abbiamo le classiche bifette per l'hotellerie, ma ci muoviamo poi sugli snack per il mondo della pausa, dell'impulso, del mondo bar e tutta una serie di prodotti dedicati ancora alla ristorazione come i grissini monoporzione e ho poi anche un grande annuncio da fare oggi. Eccolo, eccolo, allora non basta il ringo al caramello salato, sentiamo l'ultimissima novità nata in casa Barilla. Eh sì, non potevamo altro che annunciarlo qui alla fiera di Host, usciremo con una nuova linea di Pani per Burger. Pani per Burger sono un nuovo prodotto ambient, quindi a temperatura ambiente, di panini pensati per fare in ristorazione veloce, ma anche in ristorazione gourmet, degli ottimi hamburger. Un classico della cucina che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, ma che aveva un po' delle soluzioni ancora non ottimizzate nei tempi. Bene, noi abbiamo pensato di studiare questo prodotto che ha sia la facilità del trasporto e soprattutto i costi ridotti di stoccaggio per la temperatura ambiente, ma naturalmente non può mancare la qualità del prodotto studiato dalla mamma Barilla 4 Professional. Ecco, ed è uno dei prodotti realizzati negli stabilimenti in Italia di Barilla e Mulino bianco, ci sono le immagini che state guardando che riguardano proprio uno degli stabilimenti di produzione che sono il fiore all'occhiello dell'azienda e di questo paese, perché Barilla ricordiamolo è tra le più grandi aziende italiane in ambito alimentare. Sì, italiane perché la nostra origine è assolutamente italiana, siamo nati a Parma dal 1877, quindi oltre 145 anni di storia, però ormai siamo anche una multinazionale, siamo presenti in oltre 100 paesi del mondo, abbiamo sedi, stabilimenti, oltre 60 stabilimenti nel mondo, quindi sono decisamente un'eccellenza italiana per la cucina mondiale. Marco Gandolfi, grazie per la pillola, voi potrete scoprire tutti i prodotti di Barilla 4 Professionals proprio sul sito www.barilla4professionals.it che vedete qui nella didascalia, grazie per la novità e l'anteprima. Grazie mille a te Fabio e un caro saluto a tutti. Grazie mille a te Fabio e un caro saluto a tutti.